Invisibili realtà, memorie di Renudo e incontri per un nuovo teatro 1987-2009. Il libro ruota intorno alla storia del laboratorio teatral Renudo di San Benedetto del Tronto che nasce nel 1987, che a un certo punto, dieci anni dopo la sua nascita, per l'esattezza otto anni dopo la sua nascita, 1995, dà l'avvio al primo incontro nazionale dei teatri invisibili che vede a San Benedetto del Tronto, Grotta Mare e i comuni limitrofi partecipare sin dalla prima edizione, più di 40 gruppi del nuovo teatro, gruppi che in quel momento rivendicavano una visibilità. Il teatro, ancora più da adesso, era una cittadella fortificata che aveva chiuso le sue porte e non lasciava entrare nessuno, quindi un grande movimento nazionale si era creato, aveva stabilito di occupare teatralmente un territorio, Renudo si offrì affinché questo fatto avvenisse a San Benedetto del Tronto e da lì è nata un'esperienza importante, esaltante che ha visto passare in quei luoghi quelli che adesso sono i gruppi principali del nuovo teatro e il libro narra di queste due storie parallele che a un certo punto si intrecciano e diventano inscendibili. Nel libro è stato usato il metodo della ricerca storica nel senso che il mio lavoro è stato sulle fonti dirette, cioè gli articoli di giornale e le pubblicazioni che avevano riguardato sia il laboratorio teatrale Renudo di San Benedetto del Tronto, sia l'esperienza dei teatri invisibili, dunque è stato un lavoro di prima mano che ha utilizzato l'archivio che il laboratorio teatrale Renudo di San Benedetto ha costituito nel corso della sua storia, un archivio ricco di informazioni, di scritti che testimoniano il sentire di un'epoca, un'epoca in cui da San Benedetto, dalle Marche è partito un fenomeno di carattere nazionale, cioè quello che va sotto il nome di teatri invisibili e che è stato l'ultimo movimento del teatro italiano. Dopo il suo esaurirsi intorno al 2000-2001, tutto il resto sono state tendenze, tra l'altro è una storia che riguarda molto da vicino anche Scena Verticale, Castrovillari, Saverio Laruina e Dario De Luca perché Scena Verticale è una delle prime uscite sul territorio nazionale, l'ha effettuata proprio all'interno dei teatri invisibili, infatti il libro si costituisce di una parte storica e di una parte di contributi di quegli artisti che all'interno dei teatri invisibili sono nati, dunque nel libro si trovano scritti di Ascanio Celestini, di Andrea Cosentino, ma anche uno degli scritti centrali è di Saverio Laruina che ricorda quei momenti e quanto importante sia stato il fenomeno dei teatri invisibili per Scena Verticale.